Ciao a tutti e benvenuti, io sono Christian e Hans e benvenuti in questo nuovo video dedicato ad Ark. Siamo su Genesis 2, qua c'è un valore di Mew, di livello 55 ma poco in porta. Allora, vi spiego il trucco, intanto facciamo un altro, non so. Il livello X10, perché non è il trucco di 5 anni, per esempio, il livello... Eh, io per il livello 100, dai, ci aggrada di più questo. Allora, mi ha spiegato un trucchetto che, praticamente, per catturarlo, siccome lui prende e vola quando lo si colpisce, la bisogna pedirgli di volare, quindi per fargli una trappola, se non avete la possibilità di avere già la rete, potete utilizzare questo coso che si sblocca a livello 20, che si chiama... Sono i tabelloni di legno. Si aspetta che, probabilmente, si fermi sto coso... Non ha bisogno di fondamenta, magari di piazzate davanti, c'è una volta che si ferma, appena si venga di fermarsi, si blocca così, cioè, un pochino... Così non scappa, non scappa, teoricamente. L'amico, c'è verità, teoricamente, non puote, ma... Poi le riprendiamo. Allora, più o meno sei, cioè, cercate di... Toccaglia ogni via d'uscita. Un adesso per correre quanto cazzo vuoi, ma... Poi prendete le frecce, io c'ho una... Allora, cercate di non ucciderlo, quindi... Ok, le ho messe le frecce, quelle lì. Perfetto, poi gli date la carne, l'aceto alimentario, gli date le carne cruda. E aspettate, aspettate di livello 100, il maestro ce l'ha di livello 95, quindi go for it. Aspettiamo, visitarmi. Tanto, se volete, potete riprenderti anche... Eventualmente, teoricamente, si dovrebbero anche... Tanto non costano niente, ragazzi, non perdete... Proprio... Scusate. Tanto si sta tamando... Perfetto, dai. Tanto sta dormendo. Si sta tamando abbastanza velocemente, va bene, il mio host è, come sapete, è abbastanza... Si tamano abbastanza velocemente, quindi... Se volete potete seguirmi anche in live su Twitch, li trovate sempre come Christa di Ares, e ogni tanto col maestro, che è The Reaper Kings, che è The Reaper King 17, facciamo delle live insieme, questo pomeriggio tra il 16 e 30, e vi troverete in live con lui, sul suo host, per il 250, per un post. Allora, intanto gli diamo un nome, la chiamiamo... Va beh, per il momento Cehone. Perfetto, ancora non gli ho dato una Perfetto, mi seguo E lo porto in base Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia utile Se state giocando a Genesis 2 Questo è il metodo più facile Che ha trovato The Reaper King 17 Lo cito, perché così almeno non mi insulta Quindi ragazzi, se volete giocare con me Potete giocare in live Scrivetemi su Twitch Mi trovate su... Io adesso sto giocando su Xbox Non gioco su PC Ho anche l'account della Playstation Fatemi sapere Poi ma che vada faccio da host e giochiamo insieme Quindi ragazzi, spero che vi sia Stato utile Che sia utile questo video Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Bella mimoletto Che si trova soltanto in Genesis E Genesis 2 Non credo che su Genesis 2 Su Genesis 1 ci sia Però vabbè, fatemi sapere Vabbè, ragazzi Un saluto a tutti e vele Tutte la vostra visione Ares Ci vediamo Fosse video Fosse live Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti